Ben ritrovati ad una nuova puntata del NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di oggi. Nel 1971 venne inaugurata la diga di Aswan sul Nilo. La diga fu voluta dall'allora leader Nasser per far fronte alla difficile situazione che vedeva l'Egitto fra i paesi più aridi del mondo. La costruzione dell'imponente progetto avrebbe reso coltivabili, inondandoli, 10.000 km2 di deserto, aumentando così di un terzo il terreno coltivabile del paese. Un'opera grandiosa, realizzata appunto in Egitto durante la Guerra Fredda, che causò non pochi danni ambientali, ma permise anche al paese di generare la metà dell'energia elettrica di cui aveva bisogno. Come raggiungere un traguardo? Senza fretta, ma senza sosta. La curiosità del territorio di oggi ci porta a San Giorgio delle Pertiche. Si trova in provincia di Padova. I primi insediamenti nel territorio sono certamente di epoca romana. La zona, ben più tardi, fu signoria però dei Vescovi di Padova. Per quanto riguarda i monumenti, la torre millenaria fu costruita attorno all'undicesimo secolo e faceva parte della fortezza medievale, composta da quattro torioni, fosse un terra pieno e una cinta muraria. La sua massiccia struttura, alta 38 metri e con ogni lato di 6 metri, è caratterizzata da uno stile molto semplice, con un basamento realizzato in mattoni romani e longobardi. La struttura però ha subito diversi restauri. Il più recente risale ai primi anni 2000. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.